Non importa chi sei. Cameriera. Sono un broker. Cantante da me. L'artualista. O perché lo fai. I tuoi occhi brillano di orgoglio e passione. Per vincere. C'è Franci di Genome. L'unica cosa che conta. Per me è sì. È quello che metti nel piatto. Questa cucina è il posto in cui il vostro sogno può diventare realtà. Masterchef USA. Dimostrateci che è il posto giusto per voi. Da lunedì a venerdì alle 11.45 su Cielo. Grazie.